Si ricorre, il caldo non aiuta però ripartiamo dai territori, dalle persone, dall'idea che abbiamo di Toscana con Eugenio Gianni con il quale c'è un ottimo rapporto e con il quale potremmo costruire anche per questo territorio davvero quell'idea che noi abbiamo di Arezzo. Arezzo è al centro di questa Toscana e dobbiamo rimetterla al centro anche dell'area sud-est, sotto molti aspetti come rappresentanza, come ASL, come tutto. Io credo che dobbiamo rivedere questa cosa, dobbiamo fare un ticket, riparlare con gli operatori, la nostra è un'azienda particolarmente grande, abbiamo usato per dividere la Toscana criteri generali che forse generali non sono perché la Toscana è tanto diversa, se va bene tenerla insieme nell'area centro forse non va bene, anzi certo non va bene nell'area sud. Se questo significa ridividere le aziende, creare livelli intermedi, ripensare un'organizzazione o strutturale o geografica o territoriale, io questo non ve lo so dire, lo faremo con gli operatori e con il Presidente Gianni.